Un settore importante dell'economia rischia il tracollo e quello relativo alla pesca da pesce spada con la rete. Un settore che dà oggettivamente da vivere a centinaia e centinaia di persone e ovviamente anche ad una nutrita rappresentanza dei pescatori scillesi. Siamo andati a Scilla dove abbiamo effettivamente rilevato una situazione difficile che si rispecchia poi anche nelle pescherie praticamente vuote. C'è poco prodotto, c'è poco pesce ma soprattutto è il pesce spada il prodotto traino. Non potendolo pescare perché c'è una disposizione della comunità europea o meglio non potendolo pescare a determinate condizioni si provocano dei problemi davvero urgenti. Possiamo anche dimostrare a tutti gli enti proposti, alla comunità europea soprattutto, il danno che ci stanno regando e che noi non siamo quelli che possiamo regare danno all'ambiente perché i pescatori amano l'ambiente, lo hanno sempre rispettato, hanno pensato sempre di fare bene, di lavorare bene, hanno pensato sempre di crescere le loro famiglie nella dignità e nella loro professionalità senza chiedere niente a nessuno con le loro capacità. Siamo nei pressi di una pescheria, anzi proprio davanti all'ingresso e tra poco con il collega Michel Trovato Pagano vi faremo vedere i prodotti che ci sono in vendita. Naturalmente questa è una battuta, una battuta amara. Al di là di quelle che possono essere le ragioni giuste, non giuste di alcune decisioni, poi gli effetti, quelli visibili, confermano la difficoltà di una situazione e anche la gravità, soprattutto in questo momento di gravissima crisi socio-economica. Vedere, Michel vieni pure, vedere quello che tra poco vi proporremo, insomma mi pare abbastanza rappresentativo e molto chiaro. Ecco, i banconi di questa pescheria sono vuoti perché non c'è prodotto, non c'è pesce da vendere e questo mi pare assolutamente un dato che non può essere negato. Non so che dire nemmeno, non so che dirti, purtroppo questa è la situazione.